Continuo il mio viaggio su Terre Nobili. Mi trovo sulla terrazza panoramica del Monte Verico. Sotto di me Vicenza, uno dei nove siti UNESCO del Veneto. Questo in particolare, dedicato alle opere del Pallaglio. Di nuovo insieme. Ciao Marco. Terre Nobili, oggi cosa scopriamo? Oggi ci troviamo a Montecchio Maggiore, Shestir, Giulietta Romeo. Quindi insomma, viaggiamo verso l'amore. Amore, arriviamo. Qui siamo nella zona del Soave, quindi veramente una delle eccellenze dal punto di vista della viticoltura veneta. Siamo tra Monteforte d'Alpone e appunto l'omonima Soave, siamo in territorio veronese. Ci siamo sforzati da Montecchio Maggiore, dove eravamo sul percorso di Giulietta Romeo. E adesso ci stiamo adentrando nel percorso che abbiamo denominato la Scaligera. Il trasferimento da Monteforte a Soave sono circa dieci chilometri. Appunto è un'alternanza, come dicevi tu, di fondi sterati, cementati, immersi in un panorama che è unico. Veramente qui, nonostante l'impegno della salita, bisogna avere la forza di alzare la testa e guardarci attorno, perché è uno spettacolo a tutto tondo. Grazie. Grazie. Grazie.